Perché non recuperare il vecchio progetto del raddoppio della carreggiata? A chiederlo il segretario cittadino e consigliere comunale del PD Peppe Calabrese a proposito della Ragusa Mare, teatro nei giorni scorsi di un nuovo incidente stradale. Sono passati davvero tanti anni dall'ultimo intervento molto a migliorare sensibilmente la sicurezza veicolare sulla SP25, ricorda Calabrese, con la realizzazione di una rotatoria in prossimità di Contrada Gatto Corvino, opera realizzata dalla ex provincia su forte impulso del Comitato Intercontrate. Da allora, a parte l'asfaltatura di qualche tratto, non si è visto granché. Tuttavia, prosegue Calabrese, esiste nei cassetti del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa un progetto per il raddoppio della carreggiata con sparti traffico dalla fine della zona industriale fino a Marina di Ragusa. Un progetto che, come tanti altri, potrebbe essere finanziato con i fondi del PNRR. Visto che esiste, sarebbe già pronto. Ci permettiamo di segnalare la questione al sindaco Cassì per chi agisca presso la ex provincia per recuperare il progetto e portarlo avanti. Se lo farà il Partito Democratico, sarà al suo fianco, sostenendo la necessità di mettere in sicurezza, una volta per tutte, questa strada. Ragusa ha bisogno di opere importanti, conclude Calabrese, non solo di ordinaria amministrazione. E questa potrebbe essere l'occasione giusta per avviare una grande opera a vantaggio della collettività.